Troppo forte la corazzata Conegliano, Chieri dice addio al sogno, Coppa Italia niente finale, in un pala Trieste gremito la Fenera parte bene, avvio di primo set equilibrato ma a metà prima frazione l'allungo di Conegliano, Marina Lubian non perdona e se gli ultimi punti delle Venete arrivano da Caia Groberna murata due volte allora vuol dire che non è proprio giornata. Il primo set si chiude 25-18 ma il peggio deve ancora arrivare perché per Conegliano sale in cattedra Sarafar, 16 punti realizzati, 81% degli attacchi a segno, è un ciclone che le piemontesi non riescono ad arginare in ricezione, inutili i cambi di Bregoli, le cannonate della Plummer fanno il resto e il secondo set si chiude 25-16, nel terzo non c'è partita. Qualche buon attacco della Morui non basta, Groberna troppo spesso murata, il punto decisivo della Far è la sintesi di una giornata trionfale per Conegliano e storta per Chieri. 25-12, ben 6 ace per le Pantere, una differenza che non si era vista in campionato. Peccato perché questi non siamo noi, mi dispiace di non essere riuscito a giocarla con l'aggressività che ci contraddistingue.